Marcello Albergoni di LinkedIn Italia. Buongiorno. Buongiorno. Ci può dare qualche numero aggiornato sulla diffusione di LinkedIn in Italia e nel mondo? Certamente. LinkedIn è il più grande social network professionale nel mondo. Abbiamo ormai raggiunto la soglia dei 200 milioni di iscritti con un incremento di circa due nuovi iscritti al secondo. Per quanto riguarda l'Italia abbiamo oltre 4 milioni di iscritti e quando abbiamo aperto la subsidia in Italia di LinkedIn gli iscritti erano poco più di 2 milioni e mezzo. In Italia abbiamo aperto perché il numero degli iscritti era rilevante e anche perché gli italiani dalle nostre statistiche si rivelano dei grandissimi utilizzatori di social network e di mobile. Il social network è sempre più utilizzato come vetrine e canali di comunicazione dalle aziende oltre che dai singoli professionisti. Qual è la vostra vision? La nostra vision è che esattamente come esiste un profilo per i nostri iscritti esiste anche una cosiddetta company page per le aziende. Le aziende in questo modo possono sostanzialmente esporsi al network in due modalità. Una modalità che riguarda il mondo dei talenti quindi l'acquisizione di nuovi talenti e un'altra modalità che è la possibilità di proporre ed esporre i propri prodotti e servizi su questo network e queste due soluzioni si chiamano talent solution e marketing solution. La nostra visione è di aiutare le aziende a confrontarsi con questo network che è come dicevamo uno dei network più grandi a livello mondiale sicuramente il più grande a livello dei professionisti che ci sono e quindi siamo qui per aiutare le aziende che sono entrate nel network in maniera molto semplice aiutandole a esprimere di più e a fare più comunicazione e attività di recruitment. Avete di recente arricchito il servizio con articoli di firme note, economisti, manager, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è per alcune persone che noi chiamiamo influencers di fare in modo che possano costruire un canale di comunicazione dentro LinkedIn essendo l'audience molto interessante per persone di questo profilo e quindi c'è stato un primo programma dei top 150 influencers a livello mondiale tra i quali adesso cito ad esempio Richard Branson che hanno iniziato a costruire la loro strategia di comunicazione su LinkedIn e ad aumentare il loro numero di followers. Questo permette una esposizione mediatica importante per queste persone e una capacità di comunicazione che come in tutti i social network è di tipo virale.